Buongiorno, siamo al porto turistico di Ossia in questo mercoledì 25 ottobre, siamo con Flavio Vocaturo, candidato consigliere al decimo municipio di Roma, nelle elezioni che si daranno il prossimo 5 novembre. Spiegaci Flavio le ragioni che ti hanno portato alla decisione di questa candidatura. Buongiorno a tutti, sono Flavio Vocaturo, 34 anni, operatore ecologico, le motivazioni che mi hanno portato a essere candidato a consigliere nelle viste del Partito Democratico, per chi mi conosce lo sa, sono 11 anni che faccio militanza attiva nel centro-sinistra prima e Partito Democratico poi. In questo momento le ragioni sono semplici, quelli che sono i miei valori nel momento di difficoltà non abbandono la nave. Io faccio sempre questo esempio, stai tanti anni con una donna, questa donna poi si ammala e c'è chi scappa, chi gira le spalle e se ne va. Io non ho queste radici, sono qui per dare un contributo ad Ostia e al Partito Democratico affinché si rialzi. Quali sono i punti portanti del tuo programma per Ostia e per tutto il decimo municipio e in particolare sul tema che è quello poi più dibattuto in questi giorni di campagna elettorale, cioè il tema mare? I punti sono semplici, uno tra questi, un obiettivo che non mollerò l'osso, sarà quello di cambiare in meglio, provarci insieme agli elettori e ai cittadini la qualità della vita della gente di Ostia e dell'entroterra. Per quanto riguarda il discorso mare, il mare non è soltanto il mare di Ostia, ma è il mare della capitale d'Italia e non serve soltanto a fare i selfie, le foto o i romantici, ma bisogna creare uno sviluppo alternativo, uno sviluppo aperto al tessuto sociale, non andando solamente contro gli operatori del settore, ma insieme a loro creando un tavolo, un modello di accesso, di sviluppo che si apre anche agli albergatori, ai ristoranti, affinché diventa un modello applicabile veramente per chi sente il mare. Certo, il tema mare è molto sentito qui a Ostia, ma sicuramente in tutto il decimo municipio ci sono diversi problemi. Uno di questi è sicuramente quello della manutenzione delle aree verdi. Qual è la tua posizione? Sulle aree verdi sono 20 anni a questa parte che tutti parlano di aree verdi, dai sei mesi prima delle elezioni, un po' dopo per il ballottaggio, però nessuno è riuscito mai a mettere un punto concreto. Le aree verdi vanno tutelate. Io penso solamente al Parco della Madonnetta, che è un cuore, un polmone verde, una risorsa per il nostro territorio, che è stata totalmente massacrata dalle promesse disattese dell'amministrazione attuale. Io mi batterò affinché l'amministrazione municipale, quella dopo il 22 novembre, dopo il ballottaggio, dovrà prendere in carico questa risorsa, battere i pugni sul tavolo e non dire che le competenze del municipio sono sì limitate, ma vanno prese per le orecchie, portate sotto al Campidoglio, battendo i pugni sul tavolo alla sindaca Raggi che risolva questo problema. Perché fino ad oggi se ne sono fregati, hanno fatto belle promesse, belle parole per provare a prendere qualche voto e abbiamo un cuore, un cuore verde abbandonato. I cittadini mi scrivono su Facebook, mi scrivono sul telefono privato affinché questo problema venga risolto e io porterò avanti questa battaglia fino all'osso. Sì, un'elezione sicuramente molto importante dove si preannuncia e è prevista una stenzione record. Puoi fare un appello per dire quanto è importante andare a votare il 5 novembre e sicuramente anche un pensiero su quello che è il candidato presidente del Partito Democratico che è Atos De Luca. Parto da ringraziare Atos De Luca perché un politico con la sua esperienza ha messo la faccia in un territorio dove altri sono scappati, quindi grazie di cuore, grazie a livello personale. Per quanto riguarda l'astenzionismo bisogna andare a votare, bisogna andare a votare qualsiasi voto ma l'importante è andare a votare, solo così si può cambiare la qualità della vita del territorio. Hanno ragione, hanno ragione i cittadini che sono sfiduciati, sono arrabbiati, sono delusi. La colpa è della politica che in questi anni ha promesso, ha promesso, ha promesso e non ha mantenuto. Oggi vi chiede uno sforzo di credere ancora, credere ancora nel futuro, credere ancora che si possa riuscire a cambiare le cose, altrimenti hanno vinto tutte quelle persone che sono negative, che niente e nessuno potrà mai cambiare le cose. No, crediamoci perché questa volta possiamo farcela. Avete ragione ad essere arrabbiati, vi capisco, incontro tante persone, stringo tante mani e sento tanto malessere, ma vi chiedo di cuore, io sono la prova che alla prima candidatura sto dentro una elezione molto particolare perché ci credo, quindi vi chiedo con il cuore una mano a cambiare le sorti di questo territorio. In conclusione, come si farà a votare Flavio Vocaturo alle prossime elezioni del 5 novembre al municipio Decimo? Vorrei ricordare che si vota soltanto nella giornata di domenica 5 novembre, dalle 7 alle 23, con il documento, la carta identità e la tessera elettorale. Vi chiedo la fiducia agli elettori, basterà votare la mia persona scrivendo Flavio vicino al simbolo del Partito Democratico. La preferenza va al sottoscritto. Vi chiedo la fiducia per cambiare la qualità, ripeto, per cambiare la qualità del nostro territorio.